Il phishing rimane in petta con la ricezione di un'email apparentemente proveniente dal vostro istituto di credito. In realtà dietro questi email si nascondono delle persone che vogliono carpire i vostri dati personali. Papà, fermo! Ma non lo vedi che è phishing? Guarda qui! Papà, mi sa che devi tornare a scuola anche te. Papà, mi sa che devi tornare a scuola anche te.